Generale dietro la collina, ci sta la notte, crucca e assassina E in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina Di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conini Partiti al mondo come soldati, non ancora Sono Alice Signani, docente di canto presso Associazione Sound Chissà chi, chissà chi sei, chissà che sarai, chissà che sarà di noi Lo scopriremo solo vivendo Se vuoi fare una lezione di prova gratuita con me, contatta Sound Don't be there waiting for Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti